Maria Cappellini Revisore-Porto Maria Cappellini Revisore-Porto Maria Cappellini Revisore-Porto Maria Cappellini Revisore-Porto Avete mai rivolto il vostro sguardo verso il cielo? Verso le stelle, il buio profondo, oppure verso il sole e le nuvole, chiedendovi che cosa ci sia al di là del nostro pianeta? Domande come questa mi hanno sempre affascinata fin da bambina e mi hanno spinta, sebbene il mio percorso di studi non sia sempre stato di tipo scientifico, dato che ho un diploma linguistico e una laurea in clarinetto, mi hanno spinta verso l'ingegneria aerospaziale, me l'hanno fatto innamorare e quindi l'ho poi scelta come percorso di studi. Questo amore per lo spazio è arrivato in particolar modo al termine delle scuole superiori, in quel momento della vita di una persona in cui si deve scegliere che cosa fare del proprio futuro. E assieme ad esso è arrivata la consapevolezza di voler dedicare la mia vita a qualcosa di particolare, di affascinante, in grado di mettermi alla prova e di far emergere le mie capacità. Già al termine della laurea triennale, sono riuscita ad entrare a far parte di un progetto che ha dato una svolta importantissima alla mia vita, ovvero STAR. Assieme ad altri quattro studenti dell'Università di Padova siamo infatti riusciti ad ideare un meccanismo per lo svolgimento ed il riavvolgimento di un filo nello spazio. E questo meccanismo ha numerosissime applicazioni. Ne vediamo però assieme una, forse la più affascinante e la più urgente, che è il problema dei detriti spaziali. La ricerca in campo spaziale ha portato negli anni a delle conseguenze che sono spesso state ignorate ma per le quali la nostra generazione rischia di dover pagare un prezzo decisamente molto alto. Non tutti sanno che sopra le nostre teste orbita una quantità elevatissima di oggetti. Parliamo di serbatoi per il propellente vuoti, di satelliti non più funzionanti e di componenti minori. Per tradurre il tutto con un'immagine comune ed attuali, si è passati in pochi anni ad avere un disabitato e idilliaco paesaggio naturale ad una vera e propria metropoli di detriti. Introducendo qualche numero, parliamo di circa 18.000 oggetti di dimensioni rilevanti, di circa 750.000 oggetti di dimensione media circa quelle di una moneta e di milioni di oggetti inferiori ad un centimetro. Il vero problema è che solo il 6-7% di essi è funzionante, quindi 1.100 satelliti circa. Il restante 94% è costituito da materiale che nel corso degli anni è stato accumulato nello spazio e che ora vaga incontrollato. Quindi potete ben capire quanto sia rischioso impattare contro uno di essi. E questo rappresenta un problema decisamente importante per le emissioni attuali, ma anche per quelle future. Ora immaginate di avere in mano una nocciolina, che è più o meno la dimensione di un detrito medio, e di poterla lanciare contro un altro oggetto ad una velocità di 35.000-40.000 km orari, una cosa di tutti i giorni, insomma. L'effetto contro quest'altro oggetto sarebbe equiparabile non a quello di un incidente stradale o di uno sparo di un proiettile, ma a quello di una granata. Lascio quindi alla vostra immaginazione a cosa potrebbe portare l'impatto contro un detrito delle dimensioni di un camion. Quindi con questa immagine ben chiara in testa potete capire bene la gravità del problema dei detriti spaziali. Che cosa fare quindi di fronte ad un problema di coinvolgimento globale di questo tipo? Già da alcuni anni la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e la comunità internazionale hanno adottato delle norme, delle procedure per poter limitare il problema dei detriti. Però queste non sono sufficienti. Non sono sufficienti senza la rimozione attiva dei detriti. E quindi parliamo dell'intervento dell'uomo. Il vero problema è come fare questa rimozione attiva. Infatti ogni meccanismo deve avere delle caratteristiche particolari. Deve essere tecnologicamente costruibile, economicamente appetibile e cosa più importante deve essere un buon compromesso dal punto di vista politico a livello internazionale. Superate queste tre prove queste tre caratteristiche non deve costituire un rischio per poi la popolazione a terra. Quindi capite bene quanto sia complesso da affrontare questo problema. Nonostante questo sono state proposte diverse soluzioni negli anni e parliamo ad esempio di reti o di vele ma anche soluzioni un po' più esotiche. In questo contesto si inserisce il progetto di cui faccio parte quindi STAR che è stato ideato da cinque studenti dell'Università di Padova e che potete vedere alle mie spalle e che ora vi presento. A partire dalla vostra sinistra trovate Leonardo Pellegrina poi ci sono Mattia Pezzato e al centro il nostro team leader Gilberto Grassi quindi Alvise Rossi come è accennato STAR è un meccanismo per lo srotolamento e l'avvolgimento di un filo nello spazio. Questo meccanismo va poi inserito all'interno di un satellite più grande chiamato satellite madre che grazie a questo filo può andare ad agganciare questo detrito d'oggetto e per poi riportarlo a terra oppure lanciarlo diciamo verso l'infinito ed oltre. La nostra esperienza è iniziata nel 2015 quando il professore di impianti e sistemi aerospaziali di Padova Alessandro Francesconi ci ha suggerito di provare uno di quei bandi che ogni anno l'Agenzia Spaziale Europea mette a disposizione per gli studenti universitari per avvicinarli già dai primi anni alla ricerca in campo spaziale quindi potete immaginare il nostro entusiasmo di fronte a questa proposta e quindi era nata anche la voglia di mettersi poi in gioco e di contribuire alla ricerca spaziale e dopo circa un anno di studi e anche qualche fallimento nel 2016 abbiamo avuto la straordinaria notizia di essere stati selezionati proprio per uno di questi bandi il bando Drop Your Thesis che permette di testare il proprio esperimento nella torre di caduta di Brema che vedete alle mie spalle e che è una struttura una delle strutture che si ha sulla Terra per simulare la condizione di assenza di peso dello spazio come vedete si tratta di un'enorme torre che viene svuotata dell'aria all'interno della quale viene lanciata una capsula contenente l'esperimento con due modalità c'è una prima modalità la modalità Drop con cui viene lasciata cadere la capsula dall'altro e con cui si sperimentano circa 4,7 secondi di assenza di peso o la modalità catapulta che è quella di cui ha usufruito Star e che invece dà accesso a 9,3 secondi di assenza di peso tornando alla nostra esperienza noi al momento della selezione ovviamente dopo un primo periodo di totale euforia ci siamo resi conto di avere pochissimo tempo per portare quella che nel momento della selezione era un'idea geniale ma completamente astratta a qualcosa poi di concreto come previsto dal programma infatti avevamo circa sette mesi da marzo ad ottobre per passare dalla fase idea alla fase poi di test e la nostra poca esperienza nel campo della ricerca però non era certo d'aiuto noi infatti stavamo proponendo qualcosa di estremamente innovativo e nuovo e quindi non c'erano dei libri su cui studiare o delle missioni passate a cui appoggiarsi al 100% grazie però all'input iniziale del nostro professore dei suoi dottorandi e dell'ingegner Riccardo Mantellato siamo riusciti a sviluppare le prime idee ed arrivare in poco tempo ad un concetto finale per la progettazione ci siamo ispirati ad un meccanismo sconosciutissimo la canna da pesca e l'abbiamo poi adattata allo spazio cosa che magari ad una prima impressione può sembrare un po' banale ma in realtà quello che il nostro team si è trovato ad affrontare è stata una vera e propria sfida nei confronti di anni di studio e in effetti nel passato tutte le missioni che hanno utilizzato dei figli avevano dei meccanismi enormi e molto pesanti nei quali il filo spesso si inceppava o si tranciava quindi portando poi al fallimento della missione la nostra bravura invece è stata proprio quella di adattare un meccanismo semplice e leggero allo spazio non abbiamo mai smesso di credere di poterlo realizzare nonostante tutto cosa che ci ha aiutati nei sette mesi dato che comunque le difficoltà che abbiamo affrontato sono state decisamente numerose parliamo ad esempio di soluzioni che poi si sono rivelate non vincenti oppure di ordini che hanno tardato ad arrivare o scarsa collaborazione con aziende con terze persone e fondi in realtà che in un primo momento erano quasi inesistenti e che ci hanno a volte addirittura impedito di comprare la componentistica necessaria in qualche modo però siamo riusciti ad adattarci alla situazione quindi trovando delle soluzioni alternative meno costose e in un primo momento quasi autofinanziandoci alla fine di settembre però il nostro esperimento andava costruito in qualche modo e alla fine ce l'abbiamo fatta con decisamente molti caffè in corpo e anche qualche notte un po' insonne però alla fine di settembre il nostro esperimento era concreto era lì davanti a noi e quindi siamo poi volati a Brema per due delle settimane che forse sono tra le settimane più indimendicabili della nostra vita durante la prima settimana abbiamo avuto modo di confrontarci con i tecnici e gli esperti della torre di caduta che ci hanno dato tantissimi consigli è stata una settimana veramente molto educativa e durante la quale abbiamo apportato le ultime migliorie al nostro esperimento e l'abbiamo poi inserito all'interno della capsula che vedete al termine della prima settimana quindi il nostro esperimento era pronto per quello che poi sarebbe stato il vero cuore del nostro progetto quindi la settimana dei lanci che erano in tutto 5 1 al giorno questa settimana il giorno tipo prevedeva la sveglia presto una controllata generale dell'esperimento e quindi magari la sostituzione di qualche componente poi vi era l'inserimento all'interno della torre e il lancio al termine del lancio veniva poi nuovamente inserita l'aria all'interno della torre veniva recuperata la capsula e in serata c'era quindi l'analisi del comportamento ed eventuali modifiche per il lancio successivo ora immaginate di condensare sette mesi di lavoro di fatiche di sogni a volte anche un po' di disperazione di speranze in nove secondi e potrete avvicinarvi a quella che era la nostra sensazione all'inizio di questa seconda settimana e quel bottone rosso però ormai andava premuto e dare il via quindi alla sequenza di lancio che avrebbe svelato se quei sette mesi poi avrebbero portato a dei frutti qui eravamo all'interno della torre di controllo a dei frutti a dei frutti a dei frutti a dei frutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.